buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di io non mi rassegno la rassegna stampa commentata che cambia che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi racconta quello che succede nel mondo allora oggi torniamo a parlare del coronavirus perché sono giorni concitati in cui le notizie si susseguono molto velocemente ed è facile farsi prendere dal panico perciò come sempre cerchiamo di osservare le cose in maniera razionale e sul finire parliamo anche del panico del panico stesso perché ovvero degli aspetti irrazionali dei motivi collegati a questa faccenda e che giocano un ruolo fondamentale in tutta questa vicenda ma partiamo dal principio la situazione del contagio come probabilmente saprete perché ne stanno parlando tutti si è aggravata in questo weekend soprattutto al nord dove il sistema sanitario e il personale medico sanitario sono già enormemente sotto stress vi sarà capitato di ricevere messaggi o note audio da persone che lavorano dentro agli ospedali e che stanno vivendo questa crisi come una sorta di apocalisse e capisco che per loro da quella prospettiva sia effettivamente un po' così perché purtroppo c'è una percentuale non trascurabile di casi di persone malate che hanno bisogno di ricorrere alla terapia intensiva e i posti in terapia intensiva sono relativamente pochi nel senso che circa il 10 per cento degli ammalati appunto ha bisogno di ricorrere a trattamenti intensivi e questo fa sì che ad esempio in Lombardia siano 400 al momento i pazienti in terapia intensiva e che già adesso abbiano all'incirca saturato tutta la possibilità degli ospedali di offrire questo tipo di intervento. Il governo sta continuando a prendere sempre nuove misure per rallentare la diffusione del contagio in modo da evitare proprio il collasso del sistema sanitario le ultime sono arrivate sabato sera e sono misure abbastanza rigide soprattutto per quanto riguarda la Lombardia e altre 14 province per le quali vengono interrotti i collegamenti con il resto d'Italia e sono comunque piuttosto seria anche per il resto del paese con la chiusura di obbligatoria di locali, discoteche, pub e il consiglio a tutti di starsene fondamentalmente a casa ed evitare in ogni maniera assembramenti di persone e il contatto troppo diretto con le persone. Tra l'altro mentre il governo prendeva queste misure una bozza di questo decreto prima che venisse approvato è circolato in maniera ufficiosa ed è stato diffuso da quasi tutta la stampa italiana e anche da parte della stampa internazionale e ha creato in realtà un danno, ha avuto un effetto boomerang perché cosa è successo? Che molte persone sapendo in anticipo ma prima che questo decreto fosse attuativo che la loro regione o la loro provincia sarebbe stata isolata si sono precipitate alla stazione cercando di fuggire, cercando di prendere il primo treno e questa cosa ha potenzialmente portato il virus e peggiorato la situazione in altre regioni. Poi in qualche modo attraverso il blocco dei convogli e misure di quarantena anche per chi arrivava appunto dalle regioni arancioni, così insomma dalle zone arancioni è stata arginata la situazione, però ecco diciamo che c'è stato sicuramente un comportamento abbastanza irresponsabile molto irresponsabile da parte dei mezzi di stampa e in questa situazione me la sento di fare un plauso al post che ha deciso e ha dichiarato pubblicamente di non voler pubblicare niente finché non ci fosse una misura ufficiale confermata dal governo che era l'unica cosa sensata da fare in questa situazione ma che io sappia l'ha fatto solo lui quindi chapeau al post e per il resto no comment Intanto cominciano a farsi abbastanza pesanti anche le ripercussioni economiche dell'epidemia Questa mattina il petrolio è crollato al del 30% in apertura dei mercati asiatici e due considerazioni Allora la prima è che se effettivamente il petrolio è il motore del mondo, di questo mondo e il mondo si ferma, il prezzo del petrolio crolla ma non è solo questo, nel senso non è questa l'unica ragione questo crollo della domanda che ha determinato il crollo del prezzo ma c'è una seconda ragione perché ci sono anche i produttori di petrolio che sono messi a litigare tra di loro quindi l'OPEC qualche giorno fa, cioè l'OPEC sarebbe il cartello dei paesi di alcuni principali paesi produttori di petrolio che si sono organizzati in questa sorta di cartello per non farsi competizione tra di loro e stabilire assieme il prezzo l'OPEC ha cercato di imporre a tutto il mondo un taglio della produzione di petrolio proprio per far fronte a questa crisi la Russia non c'è stata, si sono messi a litigare tra di loro per farla molto semplice e questa cosa ha contribuito cioè l'OPEC poi questa mattina ha annunciato un taglio del prezzo molto molto netto e quindi ecco, questo è il risultato di questo doppio fattore quindi il prolo della domanda e il litigio dell'offerta non so se si può dire così e questa cosa è probabile e si sta già avendo in questi minuti mentre registra la rassegna che trascini giù le borse di tutto il mondo in un vero e proprio lunedì nero per la finanza siamo sull'orlo indubbiamente di qualcosa di nuovo e inedito che apre a scenari veramente difficili da prevedere e ci tengo a dirlo che non sono per forza negativi questa mattina leggevo un articolo cioè questo articolo sul Guardian di un opinionista mi si intreccio le parole, scusate di un opinionista che si chiama Will Hutton che ha pubblicato un articolo dal titolo il coronavirus non metterà fine alla globalizzazione ma la cambierà in meglio, ovviamente in inglese in cui ipotizza che questa forma di globalizzazione che conosciamo, quella non regolamentata basata sul libero mercato stia morendo proprio per via della sua scarsa resilienza e della propensione alle crisi e alle pandemie ma che stia nascendo un'altra forma di globalizzazione che invece riconosce l'interdipendenza e il primato di quella che lui chiama azione collettiva basata sull'evidenza quello che dice probabilmente ci saranno altre pandemie che costringeranno i governi a investire in istituzioni di sanità pubblica e a rispettare la scienza che rappresentano e parallelamente ci saranno sempre più movimenti sul cambiamento climatico la protezione degli oceani la finanza, la sicurezza informatica e se non possiamo fare a meno della globalizzazione appunto dobbiamo imparare a gestirla e a governarla questo è uno scenario cioè ci sono tanti scenari ci sono scenari in cui migliori, peggiori sicuramente è un momento che apre a degli enormi cambiamenti e possiamo anche cercare di fare in modo che questi cambiamenti siano positivi partendo da noi, da chi ci sta vicino e dalle soluzioni che già abbiamo apportato di mano qualsiasi cosa succeda comunque è evidente, come accennavo all'inizio che questa situazione proprio per la sua incertezza e imprevedibilità e noi siamo animali a cui non piace molto l'incertezza e l'imprevedibilità ci genera molta ansia mi veniva da pensare ieri parlando con un amico che mancano completamente nella nostra società degli spazi che siano fisici o virtuali di elaborazione collettiva delle nostre emozioni collettiva o anche individuale e casi come questi ci mostrano quanto invece siano necessari questi spazi ovviamente in casi come questi dovrebbero essere virtuali meglio perché non è proprio il caso incontrarsi tutti assieme abbracciarsi e confidarsi però al di là di questo pensateci perché soprattutto in una situazione di isolamento forzato in cui non si possono condividere con nessuno i propri stati d'animo pensate a quanto sarebbe importante anche solo avere un momento in cui poter dire a qualcuno senza sentirsi giudicati non so, ho paura sono triste tutte le emozioni che sono normali in queste situazioni perché tra l'altro e questo è ampiamente dimostrato avere uno spazio dove possiamo esprimere la nostra parte emotiva e razionale ci aiuta ad essere più razionali quando serve è come se il nostro cervello fosse in grado di essere lucido distaccato irragionevole e ragionare in maniera logica evitando ad esempio distorsioni e bias cognitivi se sa che c'è stato o ci sarà un momento in cui liberare tutto il resto che è poi la maggior parte quindi consiglio da due soldi oltre a seguire le linee guida del governo quindi oltre a fare rispettare ovviamente le leggi e i decreti oltre a fare uno stile di vita sano e avere una buona alimentazione per rafforzare il proprio sistema immunitario provate a prendervi qualche minuto assieme a una persona che vi sta vicino a un metro di distanza ovviamente quello è importante per fare ad esempio un esercizio di ascolto profondo è una fase molto semplice cercatela su internet la trovate lo potete fare veramente in 10 minuti al giorno e potrebbe aiutare ad ogni modo io per oggi vi saluto direi che possiamo finire qui la nostra rassegna sono terminati 10 minuti vi do appuntamento a domani e vi ricordo che anche in tempi di epidemie chi si rassegna è perduto ciao ciao ciao